Ivano, grande soddisfazione per la tua azienda che oggi riceve il premio alla Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro per quanto di buono siete riusciti a creare, a costruire in questi anni. Sì, in effetti volevo ringraziare un po' tutto il mio staff, il mio team che da anni mi accompagna se oggi siamo una realtà così virtuosa è anche grazie al mio team che è in costante sintonia con me e seguono passo dopo passo tutte quelle che sono le iniziative dell'azienda e quindi mi sono molto vicini. Siete partiti da una piccola realtà di un quartiere di Salerno fino a diventare oggi una delle industrie che si occupano di grafica, di design più affermate sul territorio. Sì, in effetti la mia storia nasce nel 2004, i fondatori dell'azienda siamo io e mio fratello diciamo io più per la parte manageriale, mio fratello più per la parte operativa siamo nati in un piccolo quartiere in Mariconda nel lontano 2004 e pian piano abbiamo creato una realtà che oggi è consolidata sul territorio e che siamo in grado di dare tante soddisfazioni sia ai nostri partner che ai nostri clienti. Operate chiaramente su tutto il territorio nazionale? Operiamo su tutto il territorio nazionale, ci chiamano per lavorare anche molti enti, anche tante forze armate, ci sentiamo gratificati e onorati per tutto quello che noi possiamo offrire per tutte quelle che sono i nostri servizi perché oggi l'azienda chiaramente spazia in una moltitudine di servizi che abbracciano a 360 gradi, tutta quella che è la comunicazione integrata e non. Per cui noi siamo sempre in prima linea, come dicevo prima, un team che mi supporta, siamo fortemente legati al territorio, siamo figli di questa città, figli di questa regione e ci teniamo comunque a essere anche primi eroi in patria e poi al di fuori.